La commissione bilancio all'Ars che oggi è chiamata a pronunciarsi sulla riprogrammazione dei fondi destinati tra gli altri investimenti anche alla realizzazione della darsena commerciale. Una commissione che è iniziata intorno alle 11.30, adesso è in pausa perché c'è stata la prima votazione, il primo esito a favore di Gela perché la commissione per la prima volta va sotto, la maggioranza per la prima volta va sotto in commissione bilancio, questa la notizia si votava per i 140 milioni relativi ai progetti del patto per il sud, ebbene in questo caso la commissione bilancio ha dato esito negativo con 5 voti per l'esito negativo e 4 invece per l'esito positivo. La cosa particolare è che a votare a favore del definanziamento dei fondi per Gela siano stati proprio i partiti che qui a Gela sono in maggioranza perché a favore del definanziamento hanno votato Mancuso e Savona di Forza Italia, Locurto dell'Udc e a Ricodi diventerà bellissima. Quindi praticamente due partiti su tre che di fatto sostengono il sindaco Lucio Greco qui a Gela, mentre contro il definanziamento dei progetti del patto per il sud hanno votato i due deputati presenti in commissione bilancio del Movimento 5 Stelle, Gelese, Nuccio di Paola e Luigi Sunseri, San Martino di Italia Viva, Di Pasquale del PD e Tancredi di Attiva Sicilia. La commissione in questo momento è in pausa, tra pochissimo rientrerà in aula per discutere del possibile definanziamento dei fondi dei 110 milioni destinate al progetto del Megadarsena commerciale, ma il segnale è evidente che in questo caso le proteste che sono arrivate da Gela riguardo ai tagli sul patto per il sud ma su tutti i progetti relativi per Gela hanno sortito il loro effetto. Per la prima volta la maggioranza va sotto in commissione bilancio, lo ripetiamo, ma è stata una lunga giornata, lo potete vedere anche dalle foto, le foto che ci sono arrivate direttamente da Palermo e che raccontano di una commissione bilancio riunita ovviamente con il distanziamento da Covid, erano presenti anche il sindaco Lucio Greco che avete intravisto seduto su uno strapuntino laterale perché era lì come uditore, c'era il presidente del consiglio Salvatore Sammito ma anche i membri della commissione del Porto, la riunione è partita intorno alle 11.30 con circa mezz'ora di ritardo rispetto a quanto era previsto e gli animi si sono accesi immediatamente con gli interventi dei due deputati grillini, Chetti Damante e Nuccio Di Paola. Particolarmente duro l'intervento della deputata gelese nei confronti del Dipartimento delle Infrastrutture del Bilancio, Reo a suo dire di aver deciso di rimodulare attingendo principalmente ai fondi dedicati a Gela. Giù le mani dall'area di crisi complessa ha esordito la Damante perché le motivazioni adotte a questi tagli non sono neanche rispondenti a quanto dichiarato dai Dipartimenti responsabili. Si tolgono le somme con motivazioni imprecise e generiche che a mio parere ha detto la deputata Grillina non rispondono al vero perché spesso non si conosce neanche a che livello siano i progetti. Il sindaco Lucio Greco che vedete in questo momento in foto in fondo, presente come uditore in Commissione, la scorsa settimana aveva avuto rassicurazioni sui fondi che comunque da quel che sembra verranno comunque definenziati perché lo ricordiamo il parere della Commissione Bilancio non è vincolante per il Governo sul piatto. Ci sono risorse enormi che come già capitato per i 33 milioni del Patto per il Sud e per i 5 milioni del Lungomare e dello Svincolo Manfria-Roccazzelle potrebbero avviarsi sulla strada del taglio colpendo tra l'altro anche la Darsena commerciale, il progetto della Megadarsena dove non si riesce neanche a far partire gli interventi di base nemmeno per l'escavo. La proposta dei rappresentanti al Comitato del Porto era quello quantomeno di finanziare il primo stralcio di circa 70 milioni di euro, un primo stralcio che potrebbe essere già esecutivo ma a quanto pare l'intenzione del Governo è quella comunque di riprogrammare nel tempo questo progetto. Resta comunque il fatto, ne abbiamo avuto prova proprio alla prima votazione indetta dal Presidente Savona, che la maggioranza non ha retto l'urto delle proteste gelesi ed è andata sotto in Commissione Bilancio, vi ricordiamo il voto, 5 contrari al taglio, 4 favorevoli, 4 favorevoli che ancora una volta ricordiamo fanno parte dei partiti che qui a Gela sono in maggioranza e sostengono il Sindaco Lucio Greco. Favorevoli al taglio sono Mancuso e Savona e Forza Italia, ve lo riportiamo un'altra volta, lo curto dell'Udc e a Ricodi diventerà bellissima. Contrari al taglio i due deputati del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paolo e Luigi Sunseri, San Martino di Italia Viva, Di Pasquale del PD e Tancredi di Attiva Sicilia. In questi minuti la Commissione si è riunita ancora una volta per discutere del possibile, probabile, definanziamento dei fondi destinati alla realizzazione della darsena commerciale. Naturalmente, se ci arriveranno notizie da Palermo ve le comunicheremo.